e quindi invece le ho additate alle mie colleghe che hanno un po' il gusto della caccia e che hanno bisogno di ampliare il repertorio ho scritto questo libro per loro perché ne avrei avuto bisogno io l'ho scritto quando non suonavo più sempre perché non si può far tutto ma me lo sono scritto perché ne avrei avuto bisogno io spero che sia utile alle mie compagne quelle che conosco, quelle che non conosco bisogna farsi arrivare questa musica e leggersela e suonare quella buona e scartare quella cattiva